Alla redazione del Comizio.it sono arrivate diverse segnalazioni, molti contributi riguardanti il calcio giovanile, quello dei nostri figli, che va dai primi calci fino alla soglia di un livello professionistico. Parliamo comunque di ragazzi che giocano per formarsi, per divertirsi, per stare insieme, per crescere, crescere da un punto di vista sportivo e da un punto di vista umano e appunto di socialità. Un mondo meraviglioso di cui abbiamo intenzione di occuparci, di approfondire in tutte le sue sfaccettature, lo faremo presto con un'iniziativa editoriale che si prospetta molto interessante, quindi continuate a seguirci perché questo argomento ci piace molto e sappiamo che piace molto anche a molte delle persone che ci seguono. Tra queste persone ci sono anche coloro che ci hanno segnalato qualche disfunzione all'interno del mondo del calcio giovanile, ci sono dei piccoli vizi da correggere, sappiamo che molte società sono in prima linea da questo punto di vista, hanno un impegno e un'etica molto seria e vogliono combattere alcuni fenomeni che rovinano la festa, rovinano il gioco soprattutto dei ragazzi. Parliamo magari di qualche allenatore un po' esaltato che pensa di essere Giuseppe Murigno avendo a che fare con ragazzini di 6-7 anni e allora sono urli, sono imprecazioni, richieste impossibili laddove appunto si gioca per divertirsi, si gioca per crescere e non per vincere di un gol per forza sugli avversari. Un altro problema talvolta è rappresentato dagli adulti che stanno fuori attorno al campo, dai genitori, gli amici, parenti che accorrono alle partite dei ragazzi e delle volte si lasciano andare a degli spettacoli veramente incresciosi che mettono in serio imbarazzo proprio i più piccoli che talvolta li guardano anche con una certa aria di compattimento come a dire voi sareste gli adulti. Scherzi a parte comunque il calcio giovanile, il calcio dei ragazzi è un argomento che ci interessa molto, lo approfondiremo presto sul comizio.it. Grazie.